Se chiudevamo questa partita stavamo parlando di altro e dispiace perché secondo me abbiamo fatto una grande partita e peccato, però rimane la prova, rimane la fiducia che stiamo prendendo e è importante continuare così. Ci racconti un po' il gol, perché avevi fatto le prove qualche minuto prima con il destro a giro insomma hai messo a sedere tra virgolette un giocatore del calibro di Campagnaro, è mica uno qualunque. Sono molto contento perché è stata anche una liberazione per me, è stato un periodo difficile tra infortuni e prove altarenanti quindi io sono stato felicissimo, poi il gol ce l'ho quel tiro, ce l'ho una sterzata dentro, quindi sono... Su Campagnaro vale di più. Vale di più, vale di più. Gol nato da una punizione concessa dall'arbitro, molto contestata dai giocatori del Pescara. C'era stato questo contatto con Campagnaro che molti arbitri probabilmente non avrebbero sanzionato con la punizione, tu che ci puoi dire? No, neanche me la ricordo questa punizione sinceramente. È la punizione da cui poi è scaturito il gol? Adesso ce l'ho sfocata, quindi non so che dire, può essere come anche dubbio il rigore a questo punto, non lo so. C'era anche uno forse per il Pescara al 93. Forse più quello che quello che ha fischiato, quindi va bene così, secondo me è stata arbitrata bene la partita. L'ultima, risultato giusto lo possiamo dire? 1-1 il risultato che ci sta? Sì, alla fine ci può stare, dispiace perché per come si era messa la potevamo vincere, chiudendo la partita con quelle tre occasioni che abbiamo avuto al secondo tempo stavamo parlando di altre.